Il portale del silenzio è uno dei primordiali monumenti funebri dell'umanità e questa è la struttura, un po' è questa, però il Kruft. Schibert ha voluto separare la scienza dalla letteratura, per quello qui ci sono le lettere e qui ci sono i numeri ed è l'uomo, la mano sotto, che cerca l'equilibrio tra scienza e letteratura. La scalinata è anche molto simbolica per salire verso il cielo e per scendere all'inferno. Grazie.